Stiamo leggendo in latino il privilegio sancito dall'imperatore per quanto riguarda il porto di Messina nel 1196, giusto? Stiamo cercando la parola portofranco, della città di Messina. Messina è scritto diverse volte. Abbiamo trovato le parole privilegium, anzi privilegio, sic ut privilegio continentur, inviolabilis messane civita. Data in civita messale. Qui abbiamo gli autori della... la parola portofranco è scritta nella lapide? No, non credo sia scritta. E' un sinonimo del... perché qua parla solo di privilegi nella lapide. E' la conferma del privilegio... E' la conferma del privilegio... Che era su carta, su pergamino. E' la conferma del privilegio di Enrico VI. E' la conferma del privilegio. Quindi la parola portofranco per esteso non è scritta in questa lapide? C'è scritta... è identificata come privilegio. Esatto. Come privilegio che era il... Quello istituito anni prima con l'imperatore. E' una serenissima... Ovviamente che mettono a parte le formule. Uno, uno, tre delico... Tre delico... Romanorum imperador. E' lì che si inizia di non toccare perché si può rovinare. Il miglior problema è il miglior problema. Questi segnali sono gli autori di questa impresa. Questi cittadini messinesi si sono intestati in questa iniziativa. Ma di questo le può interessare. Tutte le cose date ovviamente da un soprano e legittimate poi con la volontà sdei. Con la volontà divina. Si chiude sempre con Amen. Per l'Amen... Infatti mi viene messo in Edumo perché era un diritto irrevocabile. Solo Dio a quel punto. C'è un giuramento del soprano davanti a Dio. Dice... Giuro davanti a Dio che non revocherò mai più questo privilegio. Cosa che poi effettivamente avvenne. E mentre nelle epigrafi bloccavano ogni parola per evitare con i puntini. Per l'Amen utilizzano un appuntino complesso. Grazie. Spettacolare. Grazie. Prego.